Per quanto riguarda gli incidenti stradali, ma anche per quanto riguarda i casi di mala sanità, non è necessario evidenziare più del dovuto che si tratta di eventi che hanno delle connotazioni particolarmente delicate e anche drammatiche. Quindi quando ci troviamo di fronte a questi casi è anche molto importante, almeno per come interpreto io la mia professione, l'approccio umano che si ha con le vittime o con i parenti delle vittime. E spesso noi ci troviamo di fronte a delle scelte da dover fare, delle scelte di strategia, perché bisogna cercare di consigliare al cliente la linea difensiva che possa portare ad avere il miglior risultato possibile, dati i presupposti, date le prove, data la situazione che si è verificata, nel più breve tempo possibile.